18 piazze pugliesi, 3530 kg di parmigiano reggiano venduti e oltre 44.000 euro di incasso. Quando le cifre non sono semplici numeri ma sono il risultato di un'iniziativa ben riuscita, allora si possono trarre somme positive. Quando poi c'è di mezzo la solidarietà, il valore raddoppia. E' quanto realizzato attraverso l'iniziativa promossa lo scorso fine settimana dal PDL, dal gruppo solidale Il Popolo della Solidarietà, dell'eurodeputato pugliese Sergio Silvestris, per sostenere una cooperativa di produttori emiliani duramente colpita dal terremoto. Le forme di parmigiano vendute infatti provengono dal casificio cooperativo Le Quattro Madonne di Lesignano in provincia di Modena, formato da 40 soci e 23 dipendenti. Due dei tre stabilimenti sono stati lesionati, 1.500 le forme di parmigiano cadute, per un valore di circa 5 milioni di euro di danni, oltre a quelli della struttura. I pugliesi hanno dimostrato generosità, altruismo e solidarietà, dichiarato Silvestris, permettendo il sostegno ad un'azienda messa in ginocchio dal terremoto. Sono state prima raccolte le prenotazioni e il prossimo fine settimana i container porteranno più di tre quintali di prodotto, acquistato a 12,50 euro al chilo. L'iniziativa sarà replicata in altri 20 comuni pugliesi. Qui siete nel casificio Quattro Madonne, nella provincia di Modena. Quello che vedete è il parmigiano reggiano che è stato danneggiato con il terremoto del 29 di maggio. Qui sono cadute all'incirca 16.000 forme. Una parte abbiamo avuto la fortuna che sono rimaste intatte. Il danno si aggira sui 5-6 milioni di euro solo per quello che riguarda il parmigiano. Poi ci sono naturalmente le attrezzature, le scalerie che vorranno ricostruite. Abbiamo iniziato dal giorno successivo la vendita del parmigiano non danneggiato per il fatto che divenendo meno tutte le scaffalature non sappiamo dove stoccare questo parmigiano. Abbiamo avuto un'ampia solidarietà da tutta Italia a cui vorrei anche ringraziare voi dalla Puglia. Questo ci dà la forza per andare avanti perché qui abbiamo il lavoro delle nostre aziende agricole di più di un anno e tutti i nostri soldi sono ancora qua. Quindi probabilmente riusciremo a sopportare meglio questo danno. Vi garantisco che fa impressione vedere questo ben di Dio distrutto così e soprattutto immaginare che quella che era una stagionatura in corso che era un lavoro prodotto con anni di esperienza, di aggregazione anche cooperativistica vada così in malora. Se non ci fosse questa mobilitazione probabilmente questo prodotto andrebbe perso. Invece così stiamo dando il nostro contributo. Io voglio davvero ringraziare intanto la cooperativa che subito ha creato un contatto di disponibilità e poi davvero di cuore tutti coloro che presso i gazebo hanno acquistato il formaggio e ci hanno permesso di essere qui direttamente a comprarlo. Abbiamo girato con il bonifico esattamente quello che abbiamo incassato e questo perché spesso gli aiuti che si danno per queste situazioni si perdono per strada invece noi abbiamo creato solo un contatto diretto tra l'azienda e i tanti che volevano aiutarla. L'abbiamo fatto in minima parte, l'abbiamo fatto solo per un'azienda ce ne saranno centinaia qui in provincia di Modena, di Reggio Emilia, di Bologna colpite però ecco abbiamo fatto la nostra parte.